www.premiump.com Io spero di partecipare ancora per assistere alla premiazione di qualcun altro e continuare a far parte di questo gruppo. Il valore più importante che porto dai miei anni qui al Filippine sono il senso del gruppo e della famiglia, che probabilmente sono l'ingrediente per poi riuscire a realizzarsi negli affetti e possibilmente anche nel lavoro. Grazie